Godetevi le stupende caratteristiche di questa bellissima casa presentata da Si presenta una grande opportunità perché questa grandiosa casa di venti tua contiene un ampio soggiorno per distenderti e rilassarti Il meglio della vita è dell'intrattenimento all'aperto Un ottimo modo per finire la giornata Fissate un appuntamento al più presto per vedere questa casa